E' successo tutto così in fretta, mi sento perso, perso dentro, ma non ci voglio, non ci posso credere, ecco le lacrime, stupide lacrime, continuo a ripetermi che devo farcela, ma non posso, e così mi metto a pensare, pensare a tutte quelle cose che sono state mie, e solo mie, che ho vissuto sulla mia pelle, come quando mi sedevo a tavola con qualcuno, provando piacere nel farlo, tutte le volte che ho preso delle decisioni, già, le decisioni, i giudizi affrettati, mi chiedo, chi siamo noi per giudicare, per decidere cosa è giusto, chi siamo noi per fare questo? Vi prego, vi fate male, ho paura, ho tanta paura Chi ce ne dà il diritto?